E' stato transennato da due mesi per rischio crollo, ma ad oggi la situazione del palazzo pericolante di Vico San Geronimo non è stata ancora risolta. Come si vede dalle immagini, il palazzo puntellato e abbandonato dal terremoto dell'80 è profondamente minato da infiltrazioni d'acqua che stanno generando serissime crepe sulla facciata principale. Lo stabile si sta infatti inclinando minacciando gli edifici circostanti. I vigili del fuoco e i tecnici del comune, a detta dei residenti della zona, sono venuti più volte a fare dei sopralluoghi e delle fotografie, ma per ora la situazione è cristallizzata a dicembre, anche perché a quanto pare non sarebbe stato possibile finora individuare un proprietario dello stabile. I cittadini sono seriamente preoccupati anche dopo il recente crollo di calcinacci. Già sta da parecchio, sarà una ventina di giorni. Molto di più. E' un po' pericoloso? Eh, penso di sì. Pericolosissimo perché non solo il palazzo accanto e poi c'è anche un laboratorio proprio attaccato al palazzo e rischia gente che lavora là. Il palazzo sta lì pericolante, potrebbe succedere qualsiasi cosa da un momento all'altro, ma hanno chiuso la strada ma hanno fatto peggio perché in realtà poi la gente non capisce che non si può proprio andare. È diventato un cuovo della spazzatura e un pericolo anche solo avvicinarsi. Un crollo potrebbe interessare il palazzo accanto, quindi potrebbe essere un effetto domino. Non solo, tutta via dei Marinis, non solo. È veramente un disastro. Cerchiamo di prevenire, spero che prevengano, se no qua si dice a Napoli, caro prosepico, tutti i vasti.